Ma io mi son rotto, cioè il video lo faccio perché è nella mia natura farlo e non mi interessa delle conseguenze che potrebbero o non accadere dopo la pubblicazione di questo video Io ragazzi devo condividere con voi un fatto che mi è accaduto in questi giorni Bisogna parlarne perché sono questioni che vanno affrontate secondo me Allora come sapete su youtube più grande sei, più importante, più visibile è il tuo canale e più aziende si interessano per far sponsorizzare i loro prodotti sui tuoi video, nei tuoi contenuti Ti fa piacere a seconda dei contenuti che proponi inserire product placement nei video E questa è una pratica che viene fatta da sempre Da quando youtube è diventato mainstream insomma, da quando i canali fanno grandi numeri Il mio canale con un quarto di milioni di iscritti circa ad oggi attira talvolta delle aziende a voler fare product placement E io spesso, anzi spessissimo per non dire quasi sempre Declino le offerte che mi vengono proposte Spesso perché sono offerte che reputo poco serio Ovvero ti invio il prodotto, tu lo recensisci Però non ti pago Per lo più sono tutte richieste che ignoro Comunque a cui non sono interessato Il product placement a mio avviso può essere una cosa positiva Non è sempre per forza di cosa qualcosa di brutto Anzi, perché può portare un potenziale guadagno al creatore di contenuti E informare il proprio pubblico di prodotti realmente validi Ma diventa brutto nel momento in cui I contenuti pubblicizzati non hanno nulla Nulla a che fare con la categoria dei video Che quel canale in particolare propone Il contesto è molto importante E non può essere messo in secondo piano Ok? Detto questo Io vorrei parlarvi di un product placement Che recentemente mi è stato proposto Non vi posso dire da quale azienda Per evitare problemi privacy, copyright Diffamazione Una serie di casini Che senz'altro mi piomberebbero addosso Qualora io dovessi rivelare il nome di questa azienda Quindi non lo farò Però vi voglio raccontare ciò che mi è successo Praticamente questa azienda tramite dei terzi Mi contatta Proponendomi Di creare un video Sul canale Zeb89 Per sponsorizzare Questo loro prodotto All'inizio sembrava una cosa fattibile Stavo valutando di farlo Ma dopo poco tempo Decisi di rifiutare Perché non mi andava Alla fine mi risultava un prodotto piuttosto inutile E quindi ho preferito Non accettare Nonostante Mi avessero proposto Un pagamento di 500 euro Quindi una somma tutto sommato Giusta Che ci poteva stare Però siccome il prodotto A mio avviso Era poco abbinabile Per modo di dire Con i miei contenuti Ho deciso che era meglio Non accettare Non mi interessava Quindi ho deciso di ignorarli Qui credo che sia Doveroso ringraziare Le persone che mi seguono Senza Adblock Perché è grazie a voi Che io ho modo Guadagnando abbastanza soldi Di rifiutare Questo genere di proposte Fin qui voi direte E' ben nulla di strano Ma infatti Non è questa la cosa particolare Di questa vicenda Arriva dopo Perché a distanza di qualche giorno Dove non ho più risposto Alle loro mail E via discorrendo Mi hanno contattato In forma ufficiale Utilizzando il loro indirizzo E-mail aziendale Comunicandomi che Se non avessi caricato Il video promozionale Per il loro prodotto Mi avrebbero perseguito legalmente Così lasciava intuire Il loro messaggio Tra l'altro Scritto ad arte Ebbene Io voglio parlarne Perché non è possibile Arrivare a queste minacce velate A queste tra virgolette Chiamatele come vi pare Non lo so Ma insomma Questi pretendevano Per forza Che io facessi un video Per pubblicizzare Questo loro prodotto Non so se vi sembra Un comportamento normale Per un'azienda Cioè non credo Di essere l'unico canale Presente su YouTube A cui proporre una cosa del genere Anzi Per 500 euro Chiunque Salterebbe All'occasione All'occasione di sponsorizzare Io credo Presso a poco Qualsiasi cosa No? Dico male? Ma voi ragazzi Vi starete chiedendo Ma Zeb Ti hanno minacciato Di perseguitarti Legalmente Come mai? Perché alcuni Miei video Contenevano Il loro prodotto E quindi Per questo motivo Secondo loro C'erano Le estremità Per avviare Un reclamo Legale Nei miei confronti Hanno fatto capire Chiaramente Dai loro messaggi Che questa Era la loro intenzione Ovvero che O accettavo Di pubblicizzare La loro roba O se no Problemi di copyright Non fraintendiamoci Non si tratta Né di un videogioco Né di una traccia musicale Né di Non so Un clip Da un film O qualcosa Ma qualcosa Che proprio Non potete immaginare Cioè non potete immaginare Quanto sia anche ridicola La situazione Fatto sta Che trovo allucinante Che un'azienda Si impunti In questo modo Contro uno youtuber Ok E' una cosa vergognosa Secondo me Ok Dovrebbero veramente Lasciar perdere Ci sono tanti altri canali Che fanno product placement Non vedo perché Accanirsi contro di me Per un utilizzo Secondo loro Illecito Di quello che loro Asseriscono Essere di loro proprietà Noterete che sul mio canale Mancano di video Lascio a voi Il compito Di Verificare Quali sono E da lì Potete trarre Le vostre conclusioni Adesso Mi è venuto Un po' di mal di pancia Ok ragazzi Adesso mi rivolgo A questa azienda Non mi rompete Le scatole Non arriverete Da nessuna parte Anzi Se volete Che la situazione Peggiori Continuate pure Ma io Da me Non avrete nulla E lo sapete bene Tra l'altro Quindi A sto punto Meglio lasciar perdere No Sapete quante denunce Meschine E false Ho io alle spalle Diverse E nessuna Di queste denunce È andata in porto Proprio perché Erano puttanate Proprio come questo Caso qua Ragazzi questo è tutto E noi ci becchiamo Al prossimo video E noi ci becchiamo